Ben trovati al nostro appuntamento con Insieme Oltre 2000, quest'oggi parliamo di giovani e delle attività che si svolgono all'interno della diocesi. È venuto a trovarci in studio Don Roberto De Nardin, direttore dell'ufficio di pastorale dei giovani della nostra diocesi. Ben trovato. Grazie Don Roberto per il tempo che ci dedica per raccontare alcune delle tante attività che vengono portate avanti proprio all'interno di questo ufficio per i nostri giovani, giovani che comunque escono, Don Roberto lo ricordiamo da un periodo comunque difficile, da questi due anni della pandemia che comunque ancora ci sta condizionando, ci sta in qualche modo così, sta influendo inevitabilmente sulla vita di tutti quanti noi, più le tensioni legate a quanto sta succedendo in Ucraina, insomma anche i giovani lo sentono, vero? Certo, è una situazione semplice, lo capiamo bene, veniamo a fare da due anni difficili e quello che ci si prospetta davanti comunque è pieno di incognite. Diciamo che i giovani vivono quello che i loro genitori non hanno vissuto, quindi è tutta purtroppo una scoperta che sta anche sulle loro risorse affrontare. E quindi forse servono comunque queste attività che la Chiesa può dare, questi momenti appunto di riflessione ulteriori anche proprio partendo dall'attualità. Sì, proviamo, proviamo con alcune iniziative, abbiamo tenuto sempre viva l'opportunità del Vangelo condiviso insieme online, ancora dai tempi della pandemia, ogni giovedì portiamo avanti questa esperienza e è un piccolo, come si può dire, una piccola fiamma che comunque rimane accesa anche di condivisione e di parola spezzata fra giovani. Oltre diciamo a quelle che sono le classiche iniziative che continuano sempre, adesso ci sono due novità da presentare, Don Roberto. Cominciamo con la prima, una tradizione che si rinnova d'estate in estate con differenti proposte, comunque che riguarda un pellegrinaggio, un cammino che è di per sé un po' la metafora, se vogliamo, anche della vita, vero? Certo, allora quest'anno volevamo un po' puntare in alto attraverso un'esperienza che si differenziasse, si staccasse per, diciamo non qualità, ma insomma per obiettivo rispetto alle altre, proprio per marcare un nuovo inizio, se vogliamo dire. Nonostante i venti di guerra che comunque sono arrivati che hanno un po' offuscato questo, però l'opportunità rimane ed è quella di un pellegrinaggio in terra santa. Dopo due anni di pandemia in cui comunque abbiamo fatto qualcosa durante l'estate a livello di cammino, di pellegrinaggio, fate salve tutte le attenzioni del caso, ora vorremmo appunto lanciare qualcosa di nuovo, che è un titolo suggestivo, terra promessa, proprio per rimarcare questo slancio di futuro, di speranza, di qualcosa di bello che ci sta davanti. E per noi cristiani, per ogni credente nel Dio di Gesù, la terra promessa è la Palestina. Allora abbiamo organizzato un pellegrinaggio per giovani nella terra di Gesù, nella terra santa, che appunto porta questo titolo, terra promessa. Ecco, anche l'immagine, chiedo cortesemente a Simone che ci segue dalla regia, se ci proietta ancora l'immagine proprio della locandina, che così è esplicativa fin da subito, ovvero di questo giovane che sembra proprio abbracciarsi per questa nuova esperienza. Sì, è una luce che lo invade e vuole proprio comunicare, trasmettere una speranza, una speranza che è possibile. Come si svolgerà, Don Roberto? Allora, si stacca anche questa proposta delle precedenti perché di per sé non è un cammino vero e proprio, è un pellegrinaggio a misura di giovane nella terra di Gesù, che prevederà appunto alcuni momenti, alcuni tratti, se vogliamo dire, di visita camminando. Adesso non sto qui a snocciolare tutto il programma che comunque si trova nel sito, ma diciamo che i due focus in cui si focalizza il pellegrinaggio sono la Giudea, dove c'è appunto Gerusalemme, dove c'è Betlemme, dove è tutto il luogo più significativo, che però sono premessi da due giorni in Galilea, che siamo al nord, dove appunto c'è il monte Tabor, dove ci sono possibilità di fare anche dei tratti di cammino più lunghi, eccetera. Allora abbiamo la Galilea appunto e in Giudea soprattutto Gerusalemme. Soffermeremo il nostro attenzione nella città santa, in cui avremo modo di sostare nei luoghi più significativi per la nostra fede, visitando quelli e appunto vivendo in maniera anche, diciamo, viva e presente quello che è stata anche la vicenda di Gesù, soprattutto degli ultimi giorni di Gesù. Ci saranno anche delle guide per questa proposta? Sì, sì, avremo delle guide, avremo anche delle possibilità, appunto, ripeto, a misura di giovane, di soggiornare, di vivere questa esperienza che io ritengo unica. Lo dico anche con un po' di emozione, perché anche per me è la prima volta, io non sono mai stato in terra santa prima, quindi diciamo che questa opportunità qui, anche in un'età in cui vivo anche la maturità, la vivo con anche maggiore, come si può dire, anche incognita, anche sorpresa, perché ripeto, non ci sono mai stato. E quindi sicuramente un'esperienza... Anche per me è un motivo di grande attesa. E di grandi emozioni. Beh, intanto ricordiamo le date, dal 7 al 14 agosto. Siamo nel pieno dell'estate, abbiamo dovuto scegliere queste date per l'opportunità di un periodo che comunque vede quasi tutti a casa, impegni lavorativi e di studio in questo periodo non ce ne sono. È vero che la temperatura non sarà molto piacevole, nel senso che sarà molto elevata, però penso che abbiamo passato anche di peggio. E come età, diciamo, dei giovani? 18-30 anni. Siamo tenuti proprio in questa fascia che è un po' la più interessante che se vogliamo. L'età delle scelte, l'età un po' della maturità, della maturazione anzi. E appunto vuole essere un'opportunità per questo tipo di giovane che si affaccia alla vita, scoprire una terra promessa. Una terra promessa. Ricordiamo che le iscrizioni, c'è ancora pochi giorni per iscriversi, perché fino al 30 marzo. Sì, per ragioni proprio organizzative siamo appoggiati anche a un'agenzia, quindi abbiamo bisogno proprio di chiudere almeno la prescrizione, la caparra, in modo da poter un po' poi formare meglio il gruppo e chiarire anche meglio i costi, eccetera. E tutti questi aspetti. Ovviamente stiamo scorrendo anche la pagina informativa sul sito della diocesi di Belluno-Feltre, dove si possono vedere nel dettaglio tutti i riferimenti, anche effettuare l'iscrizione stessa. C'è un'altra proposta, sempre nel periodo comunque estivo, Don Roberto, in questo caso inerente ad un appuntamento molto importante per tutti quanti noi, che è quello della beatificazione di Don Albino Luciani, il nostro Papa Luciani. Quindi anche i giovani protagonisti. Ora, mentre stavamo portando a compimento la preparazione dell'esperienza con Pera, illustrato per sommi capi, è sorta questa altra opportunità, che viene da una collaborazione. È un evento abbastanza particolare perché questa attività è frutto della sinergia di tre diocesi, di tre pastorali dei giovani, che si sono trovate strette intorno a una figura di riferimento che è comune, che è quella di Papa Luciani. Siamo noi diocesi di Belluno-Feltre, terra di origine di Papa Luciani, e poi ci sono le diocesi di Vittorio, Veneto e di Venezia, dove lui ha svolto il ministero episcopale. Allora, con i tre direttori ci siamo trovati e abbiamo detto, ma perché non organizzare anche noi, in vista del giorno della beatificazione del 4 di settembre, non organizzare un evento che coinvolga i giovani. È vero che forse la figura dei Luciani è un po' distante, per ragioni anche cronologiche, dai giovani di oggi. Però credo che comunque possa essere un'opportunità bella anche di scoprire questa figura. Ma anche, sottolineo il valore che il fatto di che tre diocesi facciano qualcosa insieme ha. Penso sia la prima volta che così avviene e quindi anche qua è un'esperienza proprio di, diremmo, di cammino sinodale, perché proprio di cammino si tratterà. Ci saranno alcuni giorni di cammino, di avvicinamento a Roma. Faremo l'ultimo tratto della Via Francigena, l'ultime due o tre tappe che appunto ci portano immediatamente a San Pietro e vivremo a questo momento appunto di cammino insieme. Ecco, anche qui si pensa ci sarà un'ampia partecipazione visto proprio i territori coinvolti. Sì, coinvolgiamo anche in questo caso i giovani 18-30 anni. E per ragioni organizzative, anche a livello logistico, abbiamo fissato un tetto di 60 partecipanti. Indicativamente 20 per diocesi. Diciamo che questa comunque è un'ulteriore opportunità perché anche la possibilità magari di incontrare anche il Santo Padre o comunque vederlo per quanto di persona un po' più da vicino, insomma, qualche cosa che non capita. Quindi per un giovane avere l'opportunità che la propria diocesi possa promuovere un'iniziativa di questo tipo da condividere con altri ragazzi sicuramente è un'esperienza arricchente. Sì, questa opportunità corona un po' quella che è anche l'attività della diocesi in merito. C'è un pellegrinaggio diocesano che si sta organizzando e questa appunto vuole essere un'ulteriore, diciamo, sfumatura di questo tipo di pellegrinaggio. Quindi poi i giovani si incontreranno anche con tutti i fedeli, insomma tutti bellunesi. L'arrivo previsto a Roma è per sabato 3 dove con molta probabilità ma non abbiamo ancora la certezza ci sarà un'udienza che il Papa concederà ai pellegrini delle tre diocesi. E quindi insomma anche quello sarà sicuramente un momento di grande emozione. Allora ricordiamo 31 agosto 4 settembre cammino interdiocesano verso Roma. In questo caso per le iscrizioni, Don Roberto? Allora capofila dell'organizzazione è la diocesi di Vittorio Veneto. Comunque sul sito anche della nostra diocesi troveremo i riferimenti dove potersi iscrivere e dove appunto trovare tutte le indicazioni. Ci troveremo probabilmente a Mestre, i tre gruppi si congiungeranno a Mestre per poi scendere in autobus fino al punto di partenza dove appunto faremo i tre o due giorni a piedi. Questa è anche un'occasione comunque per conoscere nuove persone, per fare amicizie? Sì, sicuramente lo è. In un momento in cui usciamo anche da un tempo in cui anche i rapporti umani seppur agevolatissimi dai mezzi di comunicazione hanno permesso di trovarci, il valore dell'esperienza fatta insieme ha tutta un'altra valenza. E quindi proprio per questo momento diciamo che stanno vivendo comunque i nostri ragazzi o comunque le persone un po' più grandi comunque ha maggior ragione sicuramente un'esperienza da fare insomma se si ha la possibilità di così poter proprio approfittare ecco di questi momenti. Io credo di sì, soprattutto l'esperienza in Terra Santa, rimarco questo, eccezionale anche l'altra sicuramente, però quella in Terra Santa penso sia quelle cose che ti capitano poche volte nella tua vita. Nella vita. Bene, allora io vi ricordo qui ne abbiamo appena parlato dell'iniziativa Beato Youth, tra l'altro anche un titolo così molto accattivante di Roberto. Abbiamo un po' giocato, un po' giocato su questa parola che appunto vuole un po' rimarcare anche un po' l'origine veneziana diremo, più che bene. E avvicinarsi comunque al linguaggio dei giovani. Sì, più o meno, ci siamo solo provati. Allora abbiamo detto l'iniziativa Beato Youth dal 31 agosto a 4 settembre, il cammino interdiocesano verso Roma per giovani over 18 in occasione della beatificazione di Papa Luciani, prima dal 7 al 14 agosto invece il pellegrinaggio in Terra Santa. Come detto, tutte queste notizie si possono comunque vedere nel dettaglio anche consultando il sito della Diocesi di Belluno Feltri. Io ringrazio ancora Don Roberto De Nardin, direttore dell'Ufficio di Pastorale dei Giovani. Don Roberto, l'aspettiamo presto per raccontarci ancora le tante attività che vengono messe in moto. Grazie dell'opportunità che ci date. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.